E' iniziata la seconda parte del festival dedicato a Ruggero Leoncavallo. La città di Montalto Fugo, dopo i grandi spettacoli che hanno caratterizzato il mese di luglio, pone adesso l'attenzione alla cultura e al mondo dell'associazionismo. Si parte con la presentazione del libro di Attilio Sabato, Potere e poteri, edito da Pellegrini. E' dunque la storia di 30 anni di politica calabrese ad aprire la seconda parte del festival Leoncavallo. La iniziamo in questo splendido chiostro che noi abbiamo qui a Montalto e iniziamo con la presentazione del libro di Attilio. A questa presentazione seguiranno le altre, seguiranno delle rappresentazioni anche sia musicali sia teatrali e ovviamente non avranno l'impatto degli artisti che abbiamo avuto nel mese di luglio, ma è giusto anche che sia così, è giusto anche dare la possibilità a scrittori, ad artisti locali, poi dopo di avere comunque un'esposizione importante come questa qui di Montalto, come questa del festival Leoncavallo. Del libro di Attilio Sabato hanno discusso tra gli altri anche il socialista Pino Iacino e il democristiano Ernesto Funaro. Il primo giudizio che do è che è un grande patrimonio di conoscenze, di elaborazione, di studio, di racconti, anche se io in questo ultimo periodo in effetti non ho fatto politica attiva, però mi sono appassionato alla lettura di questo libro perché ho cercato di comprendere la debolezza dell'attuale fase politica e ho cercato di collegarli e penso che questa situazione di oggi è figlia di questi trent'anni. Quindi la lettura di questo libro ci deve aiutare a capire che va aperta una nuova fase e in questo senso questo libro è prezioso. Funaro colpito dal piglio giornalistico del libro muove però anche qualche critica tutta politica. L'atteggiamento del giornalista curioso, la sua curiosità di guardare i particolari senza perdere di vista ovviamente quelli che sono i messaggi di fondo che ciascuno dei protagonisti era chiamato a dare, riteneva di poter dare nel corso della propria stagione politica. Quindi un libro che si legge in maniera gradevole, gradevole nei toni, quindi anche se ovviamente da esponente della democrazia cristiana, il partito di appartenenza che ovviamente, quindi non rinnego, ho da fare qualche piccolo appunto, poteva essere anche il partito delle chiedere ma era anche il partito delle grandi scelte, le grandi scelte che hanno fatto del nostro paese un paese più moderno.